Dice come diventare Indiana Jones, tu c'hai sta velleità, si, abiti alla Magliana, c'è pericoloso pure, come affrontare un leone, che nella Magliana ci capitano i leoni, no? E' inutile correre via, tu stai a scappare il leone e fai due scappi, senti che devi fare secondo questo malato, cerca di aprire un cappotto e urla, nella savana tu te lo porti in cappotto, no? E che fai leggero nella savana? Hai per il cappotto e urli, oh! E leone fa, ma che cosa è che stai venuto qui, oh! Se sei in compagnia di un bambino, tu nella savana a un ragazzino te lo porti, no? Mettite la cavazione e farlo urlare, te con sto ragazzino, oh! E leone fa, ragazzino, scende un po' un attimo, mi magna solo il tossico, aspetta, 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 come liberarsi dalla presa di un alligatore, cioè un alligatore si ha preso tutto sto pezzo, e senti secondo questo che devi fare? Allora, non agitarsi, non vedo manco il motivo, insomma è un alligatore, ne è che stiamo a parlare, cerca di costringere ad aprire le fauci, tu, o costringi, dai dei pugni sul naso continui, oh! Se non apri le fauci perché c'è sta possibilità, prendi una cosa e dagliela negli occhi, che cosa, nella savana? Un mallone! Ma è bello che vieni adesso, e poi me ne vado, come? Proteggersi dall'attacco di uno squalo, a me mi fa dire che tu mi stai a guardare perché pensi che sia vero questo qua, per proteggersi dall'attacco dello squalo, difenditi a calci o a gomitate, io te voglio vedere, sto squalo te guarda così, se mette così ti voglio vedere quando è venito, fermati, fermati, poi ce n'ho una che chiudo e rimane una bocca aperta, che cosa non dovete fare nel deserto? Non camminare senza meta, no, mucchieto, senti un po' la cosa, per il Costanzo Show, mettetevi all'ombra e camminate quando non c'è il sole, e che c'è un bar? Te piazza un bar e dici, senti un po', ma il top non lo fanno neanche i giornali, ma lo fanno i biglietti del treno, questo è un biglietto del treno, e guardate dietro che c'è scritto, nel caso di biglietto di andata e ritorno, il viaggio di andata deve essere effettuato prima di quello di ritorno. Maurizio Battista, bene bene bene, allora, se lei si scherzi...